Allora camminando per Cittadella che ora c'è Lucio. Ecco qua ciao. E Lucio nega spiegare una roba. Quello che gli diceva a sua mamma. Si diceva a tua mamma? La mamma diceva che una volta la roba? Sporca? No se va a mia fontana perché tutti quanti guardava la roba è sporca. E dunque? E dunque gente la roba sporca vostra l'aveva in casa. Basta baruffe. Basta baruffe. Basta baruffe. Basta. Basta. Siamo stufi e baruffe. Perché la baruffa parla tutti insieme. Tutti quanti uniti. E' un popolo solo contro uno stato. E' un sovrano e basta. Allora Lucio il Veneto che vorresti com'è? Il Veneto che vorrei. Mi vorrei un bel Veneto per i tuoi giovani. Perché tanto io ormai 50 anni avevo fatto la mia età. Non dico mia deve essere arrivata alla fine. Però la mia parte dell'età l'avevo fatto. Ma con la fiola che ha già 16 anni vorrei che trovasse lavoro. Vorrei che trovasse la libertà di poter esprimere le proprie parole e le proprie idee. Senza essere costretta a dire quello che dice gli altri. Una libertà di pensiero. Una libertà di parola. E basta. E basta. Bene. Ecco. Ma quanto saremo indipendenti Lucio? Ma mi penso che nell'arco di un paio, anni, tre forse se continuo così saremo indipendenti tutti quanti per noi altri. Ottimo Lucio. Veneto. Solo Veneto. Tutti insieme. Tutti insieme per l'indipendenza. Per l'indipendenza. Grazie Lucio. Ciao. Ciao. Ciao.